Iniziamo con questo venerdì che va verso, insomma è uno dei primi venerdì di maggio che si affaccia su un giugno per noi del mondo saluto e sicurezza, interessante, che dite ragazzi? È un giugno che prevede un po' di novità e come dicevamo, come stavamo annunciando sui social, sarà uno di quei momenti in cui dovremmo scoprire l'acqua calda, nel senso che ci attendiamo un nuovo accordo Stato-Regioni o comunque un'armonizzazione di quella che è la formazione con delle novità dedicate a preposti e datori di lavoro, finalmente per la prima volta nella storia parliamo di formare i datori di lavoro non solo perché ricoprano l'incarico di RSVP, ma perché sono datori di lavoro e poi arriverà anche la nuova direttiva o comunque un cambio sull'applicazione per quanto riguarda il lavoro agile, lo smart working. Confermo esattamente, andrà proprio in questa direzione. Chiaramente ieri e stamattina stavo sentendo dei colleghi per avere dei feedback su dei corsi di formazione che mi hanno fatto e un po' tutti dicevano che formare e informare è la cosa più bella del mondo, no? Perché ti apre una nuova visione del mondo, magari quelle cose che tu vedi e pensi di conoscere in realtà hanno dei risvolti che senza un bravo fornatore tu non riesci a cogliere. Ma la formazione, qual è la formazione che vorremmo per il nostro autore di lavoro? E poi la formazione è sufficiente? Questa è un'altra bella domanda. Che tipo di formazione? Come la vorremmo erogare? E è sufficiente? Ecco, io lascerei questi tre temini attorno al tavolo. Cosa ne dite? Beh, temi piccoli direi che non sono, no? Comunque un minimo di rivoluzione rimane il fatto di prendere un datore di lavoro e cominciare a dirgli che deve guardare la sicurezza, si fa parte dei suoi compiti occuparsi di sicurezza solo per il fatto di essere un datore di lavoro. Nelle grandi organizzazioni forse è qualcosa di più immediato, ma nelle piccole diventa una bella sfida. Ma assolutamente d'accordo. Ne abbiamo già parlato, tu sai come la penso su questa cosa qui? che se tu vuoi aprire partita IVA o vuoi accedere a un ruolo apicale devi avere un po' un patentino di formazione, no? Cioè è quasi strano che tu possa aprire un bar e essere obbligato a fare un corso sull'HCCP e non fare nessun corso sulla sicurezza. Allora, la logica è questa. Se tu vuoi aprire un'impresa, se tu vuoi aprire una partita IVA, dovrebbe essere quasi obbligatorio, anzi, non quasi, teniamo i quasi, dovrebbe essere obbligatorio che se tu vai in Camera di Commercio e chiedi l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'apertura del partita IVA, tu debba depositare tra i vari documenti anche un bel corso di formazione adattore di lavoro. Ovviamente non un attestato, e qui ti strizzo l'occhio, eh, Veronica? Un corso di formazione, è vero? Perché sappiamo poi come vanno a finire certe cose, no? Che noi non compriamo la formazione, ma compriamo l'attestato. Quindi, ehm... C'è un sacco di gente che si sta sfragando le mani, eh, in attesa di giugno. È pronta. È, sì, vedi. È arrivato anche Alessandro Nanni, che quando vuole può ovviamente raccontarci un po' cosa sta succedendo anche dalle sue parti, i suoi datori di lavoro. Siete pronti a formare in massa centinaia, migliaia di datori di lavoro, Ale? A vendere attestati come se non ci fosse un domani? C'ho già gli attestati pronti. Grande! Ciao Ale, come stai? Tutto bene? Buongiorno, tutto bene, ben trovati. Alessandro Nanni, titolare di Soluzioni a SRL, fondatore di Play Sicurezza, uno dei metodi innovativi in Italia per fare formazione in materia di sicurezza. Come lo useremo questo Play Sicurezza con i datori di lavoro, Ale? Ma in maniera co-creativa, secondo me. Cioè bisogna fargli fare delle cose in aula e fargli fare delle attività che li coinvolgano mentalmente, non tanto invece riempirli di informazioni. Magari farlo dopo, in maniera induttiva, dopo questa parte co-creativa. Questa è un po' l'idea mia. Ma sì, diciamo, voi, chi mi conosce un pochettino sa che, ad esempio, ho qualche perplessità sulla formazione in aula. Diciamo, sulla formazione in generale e in aula in particolare. Perché a mio avviso è l'addestramento quello che fa la grande differenza sulla capacità di gestire un problema, riconoscerlo e così via. L'addestramento inteso nella mia testa come feedback di quello che hai imparato. Tanti corsi non funzionano, a mio avviso, proprio perché vieni riempito di informazioni in aula che poi non fanno scopo a quella realtà di fatti. Quanti ragazzini, quanti neossunti, neolaureati, fanno corsi di formazione in aula di formazione specifica, così come prevede l'accordo di sette regioni, dove ti spiegano l'importanza dei guanti, guanti che poi non utilizzano in azienda perché tutti in azienda non utilizzano i guanti. Quindi la formazione fatta così è solamente tempo perso. Invece un bel sano feedback sull'importanza dei guanti a bordoline quando non li usa, secondo me è molto più utile per avere i comportamenti che vogliamo. E in questo senso vedrei bene anche la formazione per i dottori di lavoro. Un misto anche in fabbrica per riconoscere quelli che sono i potenziali pericoli all'interno della propria organizzazione. Cosa ne dite? Ieri scherzavamo, no Francesco, su la formazione dei dottori di lavoro fatta per loro, tra di loro, anzi fatta da loro. Quanto sarebbe interessante. Io credo che questa possa essere una leva, no? I dottori di lavoro tendono a fidarsi soprattutto di chi ha avuto esperienze simili, di chi ha gestito la stessa azienda, ha incontrato gli stessi problemi e spesso invece sono diffidenti verso chi fa un mestiere diverso da quello di un imprenditore. Non so se vi è mai capitato, Ale, soprattutto tu probabilmente da consulente di incontrare una grande diffidenza tra chi non fa il datore di lavoro. E quindi, ma tu fai solo formazione, ma tu tanto ti occupi solo di sicurezza. Questo succede anche spesso agli apici aziendali, no Francesco? Quando abbiamo un SEO, addirittura quando abbiamo amministratori delegati che arrivano da culture differenti, che tendono comunque a essere diffidenti di quello che gli viene raccontato, spiegato in un corso, perché non si trovano tra pari. Ti è mai successo? Ma assolutamente. Io racconto un po' sempre la mia esperienza sui defibrillatori, nel senso che, a mio avviso, anche se non è obbligatorio in un'azienda come la mia, è utile perché in una logica di gestione del rischio, essendo che c'è un rischio elettrico, è utile avere anche un defibrillatore. Per anni avevo in vano provato a insistere nell'acquisto di questo oggetto, senso che un giorno il mio precedente datore di lavoro è andato in visita da un collega e dopo quattro anni di insistenze si è sbloccato tutto quando questo è tornato da questa visita dicendo ho capito, compriamolo. Quindi è bastato effettivamente l'incontro con un collega pari ruolo che magari gli avrà raccontato la propria esperienza a fronte di un incidente, che ha sbloccato la mia insistenza in quattro anni di voler comprare questo oggetto. La diffidenza era legata al fatto che non si voleva mettere un oggetto salvavita in mano a un collega che qualora non avesse funzionato avrebbe vissuto pieno di rimorsi. Però è tutta una cosa molto elaborata. Però alla fine effettivamente il confronto con altri datori di lavoro se fatto bene è a mio avviso utile. Su questo non avrei dubbi. Cosa ne pensi Alessandro? Ma io che sono mi piace subito passare all'azione mi avete fatto venire voglia che adesso mi trovo due o tre datori di lavoro da portare in aula. Eccolo! Grande Ale! Eh ma guarda che io credo che sarà efficace. Credo che diventerà... Allora, sapete perché mi piace tanto che oggi noi parliamo di datori di lavoro e cominciamo a proiettarci nel futuro su come faremo quella cosa lì? Il lavoro agile come riprenderemo? Usciamo da due anni di telelavoro e non di smart working e abbiamo fatto cose diverse. Quindi da adesso in poi come facciamo a trasformare quella roba lì in un'altra? Perché dobbiamo sviluppare un pensiero laterale dovremmo inventarci qualcosa di diverso. Non possiamo andare dai datori di lavoro con le slide come abbiamo fatto fino adesso. Come facciamo veramente a ingaggiarli? Loro hanno poco tempo hanno priorità differenti hanno anche la preoccupazione alta di mantenere in vita in tutti i sensi aziende e persone e sarà compito nostro fare in modo di ingaggiarli in questo tema. Quindi sarà innovazione prendere i datori di lavoro e metterli in un'aula e farglielo fare a loro il corso. Abbiamo... Nel palco abbiamo Marco Saponaro il nostro fantastico addicted per quanto riguarda le metodologie la gamification e usare non solo il Lego usare tanti strumenti differenti in un'aula con il datore di lavoro sarà efficace o sarà pericoloso? Vedo che c'è con noi anche Andrea Rizzo e lo vedo sommelier. Fargli fare un wine building metterli insieme e usare delle metafore per raccontargli cosa è un'azienda sicura quanto sarà efficace? Ad esempio io vedo noi utilizziamo il premesso è che tutti i dirigenti e tutti i datori di lavoro che ho avuto hanno fatto comunque un corso di formazione perché è chiaro che hanno altre priorità cioè la priorità di un datore di lavoro di un CEO tipicamente è quella di far crescere l'azienda farla prosperare creare nuovi prodotti e far sentire le persone bene questo è evidente e la percezione questo secondo me è che vorrei sottolineare bene la percezione è che alcuni temi siano veramente troppo specialistici cioè quando diciamo hanno toccato con mano in questi due anni quanto è complessa la legislazione italiana in caso di covid pensiamo solo a questo il fatto che solo per il covid lo stato italiano ha emanato non so più quanti decreti 300 leggevo sul recente articolo quindi la percezione che loro hanno è che siamo mezzi avvocati quindi insomma è una cosa da cui stare distanti allora cominciamo da questo far capire invece quali sono i vantaggi di essere un bravo CEO quali sono le decisioni che devono prendere loro quale è bene che non prendono invece l'uso della delega e in qualche modo far capire che loro sono parte di un ecosistema cioè che non hanno tutte le responsabilità un esercizio che facciamo un esercizio che facciamo con loro ad esempio è quello di usare un tabellone molto grande in cui linkiamo i vari compiti anche banalmente con scenari di EPI e domandano a loro ma secondo te nella tua organizzazione chi svolge questi compiti chi organizza le visite mediche e questa è una maniera per farle ragionare sulle loro responsabilità su chi ha questo compito o chi semplicemente ha la responsabilità di gestire questa cosa che è una cosa diversa ovviamente compito e responsabilità allora io vedo che questa maniera interattiva di farli ragionare su cose che loro conoscono perché è evidente che sanno che qualcuno in un'azienda con segni di EPI o che qualcuno in un'azienda fa le visite mediche o la formazione però farglielo dire a loro secondo te chi organizza queste cose in azienda e perché servono queste cose è una maniera diversa piuttosto che cominciare a resire l'81 spiegargli cosa hanno spisa e così via anche perché poi voi sapete i miei CE ultimamente sono giapponesi quindi vengono appunto da una cultura anche molto diversa sì che mi viene da dire anche man mano intanto è arrivato Andrea Zaretani ciao Inge quando vuoi tentare la conquista di Clubhouse noi siamo qui pronti ad ascoltarti questo vale un po' per tutti i nostri amici che sono sul palco eccolo ciao Andrea se tu vuoi parlare c'è un microfono lo ricordo un po' a tutti puoi aprire il microfono e salutarci nel frattempo avete tutti una serie di comandi sotto c'è una chat in cui possiamo scriverci domande saluti abbiamo già salutato Paola e Annalisa e Daniele avete anche la possibilità di invitare io vi invito sempre a condividere questa room anche con altri il bello è poter condividere i punti di vista non solo il pensiero mio e di Francesco che moderiamo questa stanza ma ascoltiamo le vostre storie con molta molta curiosità e quindi invitiamo a condividerle con altri intanto ha dato tutto questo tempo all'ingegner Zaratani più sicurezza Imola uno dei più grandi ingegneri italiani appassionati di salute e sicurezza e di aprire il microfono ma come vedo ho fallito sì ho fallito va bene come hai fallito proviamoci un attimo non riusciamo a salutarlo non riusciamo lui starà smanettando e intanto ritorniamo sul nostro tema oggi stiamo parlando di datori di lavoro di ingaggiare di prepararci a formare veramente i datori di lavoro e coloro i quali ricoprono questo ruolo nelle piccole aziende stiamo parlando degli imprenditori nelle grandi aziende stiamo parlando di manager di amministratori di legati di CEO di figure che ricoprono comunque un ruolo di rilevo e che fino adesso seppur avendo frequentato corsi da dirigenti non erano obbligati stiamo aspettando questo accordo stato-regione anche per capire un po' meglio come farlo e lo vogliamo fare in maniera differente credo che questo sia un po' al nostro obiettivo Francesco ma io credo che comunque l'accordo stato-regioni benché elenchi dei contenuti all'interno di questo mondo di contenuti ci sia la possibilità di gestire la formazione usando strumenti anche più moderni della formazione frontale l'esercizio che dicevo ad esempio era quello di mettere appunto tono a un tavolo davanti a un bel poster e cominciare a dire ma in azienda chi è che svolge questa attività e perché quali sono i vantaggi l'altra cosa e questo l'ho visto parlando con tantissimi colleghi è l'esercizio di portare i CEO e i dirigenti in fabbrica cosa che dovrebbe essere quasi ovvia ma non è sempre così nell'attività che mi ha svolto il 28 aprile quando ha la domanda cosa fate in azienda per coinvolgere il management la risposta di tanti colleghi è stata facciamo i safety walk allora effettivamente è vero questi nostri dirigenti hanno difficoltà a trovare spazio nella loro giornata per farsi un giro in fabbrica questo quanto meno deve essere fatto nella giornata di formazione un giro in fabbrica cominciare a vedere assieme quali sono i rischi secondo lui perché un'altra delle cose molto importanti è che va guidate queste cose uno che è un CEO che sia un uomo di finanza un uomo di prodotto fa difficoltà a capire alcuni rischi in cui invece noi siamo immersi quindi secondo me è un momento anche di condivisione del nostro mondo con loro nella logica non di non dargli di leggi e decreti che di solito viene percepito in maniera molto negativa ma di fargli capire perché il loro ruolo è efficace che nella gestione del business c'è anche il mantenimento dei siti delle persone un po' come dico sempre inutile sviluppare nuovi prodotti in un'azienda che non ha neanche un certificato di protezione incendi perché se l'azienda prende fuoco tu questi nuovi prodotti questo nuovo fatturato dove lo vai a fare quindi è far vedere una visione un po' sistemica quindi la mia proposta era proprio quella di dire cominciamo a gestire in un minore diverso in un minore più collaborativo dimmi tu cosa pensi sia il tuo ruolo dimmi tu chi pensi che svuoga questa attività in un'azienda prevista per legge e stiamo magari un paio di ore in fabbrica per vedere insieme dal punto di vista HSE qual è il flusso produttivo che questo Francesco Ale vai vai scusa una cosa mentre ti ascoltavo che io sto vivendo una bellissima esperienza con i formatori perché abbiamo fatto questo lavoro per trasferire alcune nostre metodiche ad altri e probabilmente l'esperienza mi fa dire che queste cose che dici tu che io faccio diverse in modi diversi ma comunque se basano solo il convolgimento e sulla copartecipazione tanti formatori fanno difficoltà perché vivono un senso di paura perché in qualche modo in questa forma qui che tu hai descritto che io amo tanto tu non hai la strada assegnata non hai dei temi da affrontare hai forse delle domande da saper fare ma non sai qual è il percorso che avverrà all'interno di quell'esercizio o di quella che sia in aula o che sia in produzione no? e io credo che questo sia un grande problema che abbiamo in Italia dove i formatori vadano aiutati a togliersi di dosso la paura perché entrano in un'idea diversa dove non è più un trasferimento e quindi ho la strada assegnata sono tranquillo faccio il mio percorso non ho problemi ma invece vado lì e c'è molta più incognita è vero e questo secondo me il motivo per cui le persone hanno paura ai formatori però è quello che genera veramente un cambio nell'interlocutore che hai di fronte a cui hai fatto queste domande e che ha vissuto questa esperienza ma sono d'accordissimo con te Alessandro credo che la difficoltà grossa in un processo formativo sia innanzitutto voi pensate appunto che io approccio queste cose con dei colleghi giapponesi quindi non sono una cultura diversa ma un approccio legale diverso anche noi abbiamo due grandi problemi il primo l'hai evidenzato tu cioè spesso il formatore è quello che semplicemente legge le slide e coinvolgimento è un'altra cosa l'altro e quindi diciamo bisognerebbe essere di bravi lasciami dire intervistatori piuttosto che informatori capire cosa bolli in pentola dall'altra parte e capire cosa capire oltre a quello che vi ho detto cosa pensa questa persona del suo ruolo e delle sue capacità di gestirlo poi questo ruolo spesso tante persone hanno questo senso di inadeguatezza davanti delle leggi oggettivamente molto complesse Veronica c'era quando ho intervistato ho fatto un paio di domande al procuratore guarinello le leggi in Italia sono estremamente complesse quindi anche un approccio diverso servirebbero se avessimo una legge un po' più tecnica un po' più chiara e avessimo dei formatori più capaci di fare un po' di maieutica tirar fuori cosa c'è dentro nei nostri c'è oppure mentre le cose andrebbero in maniera un po' più semplice o semplicemente un po' più diverse è salito con il palco con noi vedo vedo buongiorno marco marco saponaro è il mio reparto R&D no non è vero scherzo lo precibiamo buongiorno marco marco con noi marco è con noi viene della zona di Torino è un formatore ha fatto con me il percorso di metodologia Lego Sirius Play è un trainer ma è un appassionato è un ingegnere caro Francesco questi ingegneri dell'immaginazione che io vado pescando un po' qua un po' là poi esistono e sicuramente ci può raccontare come si fa a tirare fuori Marco dalle persone dai corsisti dalle persone che incontriamo in aula il loro pensiero quali strumenti perché questi strumenti differenti funzionano bella domanda questi strumenti differenti funzionano perché perché appunto sono diversi quindi stimolano la curiosità del corsista del partecipante al workshop e quindi li ingaggia maggiormente a fare cose no? quindi prima sentivo parlare di lezioni un po' troppo monotone con le solite slide la normativa tutte queste cose qui convertendo questo tipo di attività in qualcosa di fisico quindi da far fare quindi quelli che noi chiamiamo workshop ingaggia maggiormente le persone ma il problema non è ingaggiare le persone all'interno dell'aula il problema è far fare alle persone quello che hanno appreso fuori dall'aula perché nell'aula è tutto bello ci si diverte si apprende si ok ma fuori dall'aula cosa fanno e quindi sarebbe opportuno fare delle attività di follow up per vedere se stanno facendo quello che hanno imparato in aula e come si fa a far fare loro queste cose fuori dall'aula facendo delle attività periodiche di monitoraggio di di monitoraggio l'unica cosa che bisognerebbe stargli dietro per un certo periodo di tempo per vedere se stanno applicando quello che hanno imparato durante durante il workshop che secondo me è la cosa più difficile in aula bene o male riusciamo ad ingaggiarli riusciamo a fargli estrarre anche quello che è il loro pensiero con veronica facciamo lego serious play usiamo altri metodi usiamo giochi da tavolo però quello che è il dubbio che ho è fuori dall'aula cosa fanno queste persone con qualcuno faccio attività di follow up e vedo se stanno facendo quello che è emerso durante le lezioni con altri no e quindi mi rimane il dubbio se la mia metodologia è stata efficace o meno grandissimo marco grazie dell'intervento assolutamente d'accordo Francesco è il futuro questo che pone il quesito marco no assolutamente quando parlavamo in maniera un po' così diretta dico piuttosto che la formazione per riesco all'addestramento perché l'addestramento è un processo in cui io provo con te a fare questa cosa e mentre la fai io ti correggo ti supporto la formazione in aula ha questo difetto tipicamente appunto viviamo in un contesto diverso da quello operativo non che non vada bene è che poi quello che ti viene insegnato nessuno verifica se viene correttamente applicato e quindi per contro io sarei proprio dell'avviso di eliminarla quasi completamente la formazione frontale in aula e di spostare tutto a livello di addestramento allora è chiaro che questo è verissimo per un operatore di linea per un team leader ecco un'altra delle cose che dico spesso in azienda è che quando facciamo formazione ai capi reparto ci vorrebbe nella stessa aula il capo dei capi reparto perché per lo stesso motivo si adotte gli strumenti nuovi ai nuovi capi reparto che è un'azienda e il capo di questi qui non c'è come fa a sapere che i suoi collaboratori hanno strumenti nuovi come fa a chiedergli l'applicazione di questi strumenti e quindi la formazione dovrebbe essere anche qui un po' più collettiva cioè non sono indirizzata ai collaboratori ma anche i capi assieme con tutte le complessità del caso è evidente nel caso in dottorio di lavoro la cosa è un attimo più complicata evidentemente però è uguale allora come noi possiamo stimolare la coerenza tra quello che viene insegnato in aula e quello che accade dopo beh ad esempio con gli indicatori tenendolo presente nel fatto che abbiamo detto in aula che c'è questa tua responsabilità ad esempio di fare degli investimenti e allora magari un indicatore sull'avanzamento degli investimenti di sicurezza e ambiente è doveroso direi quanto meno e via così cosa ne dite? vedo che si è unita anche lei alla nostra chiacchiera sentire il suo parere perché si occupa anche lei di formazione e prima di darle la parola vorrei solo tranquillizzare tutti loro i quali demonizzano una formazione un po' fatta differente perché non siamo perché sostengono che poi non diciamo quello che la legge prevede perché non rispettiamo il contenuto legislativo perché come facciamo in quelle ore che ci sono date dalla legge a dire tutte le cose che dobbiamo dire ai lavoratori perché nell'accordo ha stata ragione o perché nella normativa c'è scritto che dobbiamo parlare di 81 perché c'è scritto che dobbiamo raccontargli tutti i rischi possibili immaginabili sul pianeta Terra beh signori state tranquilli le persone spesso e volentieri conoscono già quello che noi siamo pensiamo di dover distribuire come scienza infusa è più importante la loro opinione e sta alla nostra professionalità essere capaci di scegliere in maniera corretta rispetto ai tempi e rispetto alle persone che abbiamo davanti quali sono gli argomenti che vanno effettivamente affrontati non ce lo può dire una legge le aziende sono tutte diverse le persone sono tutte diverse sarà il nostro essere HSE manager che scrivono e scelgono e selezionano chi fa formazione sarà il nostro essere RSPP che decide qual è il programma di formazione sarà il nostro essere formatore e consulenti ma di certo non sono le 400 slide con dentro tutte e 5 le lauree che sono previste dall'81 per affrontare i temi in un'azienda che faranno dei lavoratori che ci vedono per una volta per magari un giorno un giorno e mezzo o due scienziati con la scienza infusa della laurea in biologia in chimica in fisica e in ergonomia scusate questa dovevo proprio tirarla fuori perché è la domanda più frequente ma lei come fa collego a parlare dei rischi che sono previsti si fa si fa basta farlo con coraggio Nei invece tu ti occupi di formazione professionale sui ragazzi se non ho molto male benvenuta chi sei? ciao buongiorno a tutti io mi occupo di formazione professionale in un istituto professionale a Torino io sono responsabile aria non vi elenco tutto quello che faccio perché a volte mi dicono cosa fai non so neanche cosa dire perché faccio mille cose o mille funzioni quindi prevalentemente coordino però sono d'accordo cioè vi ascoltavo per quanto riguarda appunto la formazione stesa anche a chi appunto deve controllare e coordinare soprattutto nei nostri casi io parlo io seguo i ragazzi e capire che il programma venga svolto perché io poter verificare che questo programma sia stato svolto completamente o comunque nella situazione parziale o quello che sia bene o male mi devo formare io sono laureata in economia e ho fatto io mi occupo nel settore benessere della parte degli acconciatori e mi sono fatto una cultura nel mondo degli acconciatori da quanto riguardano le normative a quanto riguardano i processi che potrei fare la parrucchiera oggi perché era l'unico modo che avevo per poter verificare che questi ragazzi avessero avuto e ricevuto tutte le competenze necessarie per poter affrontare poi il mondo del lavoro e poi sentevo anche forse Marco diceva appunto il fatto di capire se queste cose che vengono date vengono poi messe in pratica al di fuori dei corsi vabbè noi abbiamo un po' lo stage che ci dà un po' un ritorno di quello che è la nostra formazione di quello che facciamo e riusciamo a diciamo così a correggere il tiro prima che i ragazzi escano da mi sa che abbiamo perso Nai ma allora io Veronica comincerei anche un po' fare l'elenco della spesa cosa ci aspettiamo da questa formazione che il nostro dottore di lavoro conosca le leggi italiane che conosca l'uso della delega che conosca cosa vuol dire quando approva o rifiuta un investimento cioè lo vogliamo un esperto di leggi o lo vogliamo safety leader cosa ne dici cioè quale deve essere l'output di questa formazione cominciamo a ragionare anche su questo e anche questo è un grandissimo tema quanto siamo abituati eccomi mi sono ecco ti ciao Nai ti abbiamo perduta al telefono infatti mi è entrata una telefonata della scuola mi occupo di orientamento stamattina ho un colloquio è già arrivato io sono ancora per strada però vabbè arriverò c'è un po' di pioggia a Torino e il traffico si complica comunque sì vi sentivo e concordo in pieno anche nell'ultimo diciamo riflessione che hai fatto sulla questione che ci richiedono di fare appunto di seguire dei manuali quando in realtà bisogna appunto valutare come dicevi l'utenza e il bagaglio che hai davanti per poter continuare a riempirlo ecco a complementare con la formazione che poi diamo noi mentre tu eri al telefono Francesco diceva è arrivata tiriamo fuori quindi quali sono i punti su cui dobbiamo prepararci per affrontare questa piccola grande rivoluzione che aspettiamo che arrivi e mi è piaciuto molto quello che hai detto tu io sono diventata parrucchiera praticamente posso fare la parrucchiera non lo facevo perché stavo lì ad ascoltare i ragazzi e volevo che loro mi raccontassero cosa avevano capito cosa avevano imparato perché era l'unico modo per affrontare le competenze beh Francesco io direi che questa è la prima cosa che dovremmo da cui dovremmo uscire che dovremmo metterci in testa diventare ricchi noi di impreziosire la nostra competenza perché saremo innanzitutto in grado di ascoltare cosa sanno cosa già conoscono cosa anche quali convenzioni hanno per poterle poi magari anche rafforzare o modificare e io direi che in secondo luogo una grande rivoluzione che dovremmo imparare tutti noi della famiglia professionale della sicurezza è progettare questa grandissima parola ai più sconosciuta quello che hai detto tu cioè cominciamo a fissarci quale output vogliamo cosa ci aspettiamo è già l'inizio di una progettazione allora quando noi pensiamo alla formazione non possiamo pensare di comprare un pacchetto fatto e finito noi stiamo pensando di fare un'azione che modifichi un comportamento o che vada a rafforzarlo o che vada a rafforzare una competenza e allora come faccio ad essere sicuro di aver centrato quell'obiettivo se prima di iniziare questo percorso non mi sono posto determinate domande non ho deciso non mi sono creato degli scenari sai che a me piace tanto lavorare con gli scenari futuri no? l'immaginazione viaggia molto su questi di canali come faccio a decidere quale sarà il risultato della mia azione se non mi sono creato prima una serie di piani di scenari di obiettivi che voglio raggiungere che immagino di ottenere allora forse i punti che mi sembra bello che lasciamo stamattina Francesca se sei d'accordo con te è progettazione intanto un bel corso progettato condivisione nel senso che prima avevamo detto che sarebbe bello averli in aula condivisione tra pari i datori di lavoro si fidano gli uni degli altri e molto di meno di tante altre figure e probabilmente un'inversione nei mega trend della formazione io seguo qualche osservatorio faccio parte di qualche osservatorio che si occupa dei processi di formazione nel mondo i mega trend ci dicono che sempre di più andiamo abbandonando quella che è una buona parte di lezione frontale per la cosiddetta flippet classroom è la la classe invertita ovvero quando io sono capace di ascoltare di farmi raccontare e e solo in un secondo momento sono io a spiegare a facilitare a briefare diremmo a Milano quello che succede che ne dici ti sembrano buoni questi tre mi sembra un ottimo cito Andrea Trespidi che qui sotto che ci sta ascoltando quindi penso che gli farà piacere Andrea ci raccontava nell'ultimo incontro che un manager deve essere assolutamente capace di ascoltare pensiamo ad esempio quando tutti quanti dicono no vorrei migliorare la mia azienda no ma poi quando qualcuno ti porta un problema chiamiamolo Nermis o derivi di processo quanto poi noi siamo capaci di ascoltare questa persona questa persona viene un po' con i capelli in mano a raccontarci che ha sbagliato qualcosa che è caduto Nermis ecco in quel momento lì lui spera che noi lo capiamo che riconosciamo che l'errore può accadere no in quel momento lì questa persona si gioca la sua ripetuzione la sua faccia davanti ai colleghi no quindi se lo cazziamo pubblicamente certamente domani qualche Nermis non ce lo porta più quindi sempre citando Andrea una frase che mi è piaciuta moltissima perché poi riguarda anche il nostro prodotto un bravo dottore di lavoro un bravo dirigente è colui che ha in mano il termostato del clima aziendale allora è chiaro che se tu vuoi vedere veramente cosa puoi fare nella tua azienda per migliorarla per rendere più sicura sicuramente deve essere capace di ascoltare in maniera positiva e gestire con intelligenza queste relazioni con i propri collaboratori nei momenti difficili questa parte qua è secondo me inevitabile deve essere assolutamente fatta se no avremo dei datori di lavoro molto tecnici ma poi a fronte di problemi incapaci di gestire correttamente la crescita dei propri collaboratori e grazie Andrea Andrea l'abbiamo invitato probabilmente eccolo ciao Andrea buongiorno Andrea Trespidi uno dei nostri filosofi della salute e della sicurezza che ci lascia sempre qualche brillantissima e ispirante idea ciao Andrea che filosofo filosofo in Italia c'ha c'ha un'accezione più negativa che positiva vero dici almeno nell'azienda per cui lavoro nella quale fra poco non lavorerò più quindi attenzione spoiler i filosofi sono quelli che chiacchierano ma poi non fanno vi ho ascoltato con interesse e secondo me c'è un'altra parola che è competenza i dirigenti hanno bisogno di di nuove competenze è inutile che ce lo nascondiamo l'ascolto di un air miss il saper comprendere il saper dare feedback i dirigenti di oggi hanno bisogno di sempre più competenze perché laddove il ruolo in toto e laddove il ruolo di datore di lavoro anche viene agito in maniera diversa da quelle che sono le nostre aspettative di HSE tante volte c'è sotto un problema di competenza cioè alcune cose non le capiscono non le sanno fare non le hanno mai fatte o non lo sanno quindi c'è bisogno di sostenerli e di continuare con quello che voi avete detto formazione ben fatta formazione ben progettata formazione utile e non solamente compliant sì compliant ma anche qualcosa in più dare a loro una visione sistemica cioè far capire che la sicurezza come anche tanti altri aspetti in ambiente la sostenibilità non sono elementi accessori del business ma sono elementi sono lo satura del business tu non puoi mettere su un'impresa senza considerare appunto l'incendio ad esempio o l'inquinamento o il rovescio i benefici che ti può dare una popolazione lavorativa che si sente serena e sicura anziché avere prodotti più sostenibili la visione sistemica spesso viene un po' persa vorrei vorrei diciamo portarvi una definizione che da noi nei sistemi di trasporto si usa tanto che è quella di pressione operativa che hanno tutti i lavoratori i preposti i dirigenti chiunque ha una pressione operativa e proprio come in fisica la pressione è definita come forza fratto superficie noi nel mondo del lavoro dei trasporti definiamo la pressione operativa come il numero delle cose e degli obiettivi che ti chiedo di raggiungere diviso la tua capacità di farlo cioè la tua competenza e quando diciamo non puoi agire sulla forza perché comunque le cose che devono essere fatte vanno fatte quindi quando non puoi diminuire la forza l'unica cosa che puoi fare per diminuire la pressione operativa è aumentare la competenza quindi aumenti la superficie bisognerebbe che tutti andassimo in quella direzione lì cioè saper agire sia dal punto di vista organizzativo perché la dirigenza organizza in modo tale da pesare la pressione in modo tale che agisca in maniera corretta molte volte ho visto dei preposti che prendono delle scorciatoie o violano delle procedure non perché sono dei criminali ma semplicemente perché non sono in grado di gestire quella pressione si sentono di dover fare troppe cose e su qualcuna di quelle lì svicolano e molto spesso svicolano perché non hanno la competenza perché non hanno compreso quindi secondo me è formazione formazione tutta la vita formazione tutti i giorni formazione anche un minuto al giorno ma formazione sempre perché bisogna tenere in equilibrio quella quella pressione formazione non è il corso e basta formazione è tante altre cose sono stato in silenzio perché ho preso appunti beh hai perfettamente ragione cioè è un po' lo spirito del team effettivamente quanto il il capo in questo caso dottore di lavoro è in grado io parlavo prima di delega ma tu correttamente dici di far lavorare il team all'interno di regole definite di cui tutti dobbiamo essere a conoscenza lui per primo in modo che il team performe nella corretta in modo che chi è all'interno di quel team aiuti anche chi è magari un po' più indietro in termini di cultura di capacità tecnica e così via però è chiaro che il dottore di lavoro è colui che guida i propri dirigenti i propri perposti i propri tutti all'interno di una visione comune che deve essere chiara e deve essere compreso anche tecnicamente ma anche i benefici che può portare questo tipo di visione sono d'accordo vero? vedo che ci stiamo avvicinando alle 9 un quarto sì esatto ero in silenzio perché stavo riflettendo sulla formula della pressione e ci farò una riflessione anche la settimana prossima credo su questa cosa Andrea credo che abbia aggiunto la parola competenza e mi piacerebbe chiudere con un'altra parola prima di salutarci che è misurazione nel senso che se vogliamo veramente rivoluzionare Andrea diceva formazione formazione sempre formazione anche un minuto al giorno sì ma sì ma è a che pro? come faccio? perché? a volte può essere una cosa personale va bene ma in un'azienda a quel datore di lavoro se non gli spieghiamo qual è il ROI qual è il ritorno dell'investimento forse non siamo neanche non stiamo usando neanche noi un linguaggio adatto a quel datore di lavoro quindi se al datore di lavoro andiamo a dirgli che progettiamo qualcosa di utile che abbia che distribuisca competenza che sia effettivamente ben fatto con gli strumenti giusti io credo che poi noi li dovremmo dovremmo imparare molti lo fanno già lo fanno ci sono dei sistemi di misurazione ma quanto sono efficaci mi viene da dire quanto effettivamente si 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 vedono nelle aziende quanto anche è misurabile quell'investimento il datore di lavoro ragiona in questi termini e noi se vogliamo essere efficaci vogliamo dargli quella formazione e fargli credere che la formazione come ci crediamo noi è importante dovremmo imparare possiamo imparare a usare il suo linguaggio e quindi inserire oltre alla progettazione oltre agli strumenti oltre alle competenze anche che la misurazione che ne dici francesco ma assolutamente magari ne parliamo la prossima settimana gli strumenti ci sono io in azienda abbiamo ottuato perché il linguaggio comune l'A3 l'A3 è uno strumento tipico della Lean Manufacturing che ti permette è un PBC un po' evoluto ti permette di misurare lo scostamento dei tuoi obiettivi e dare in mano a un gruppo di persone delle domande del perché non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi visto che la situazione attuale dei nostri indicatori è differente e quindi cosa fare questo secondo me sono gli strumenti anche che dovrebbero essere in mano al dottore di lavoro alla fine la sicurezza non è appunto un elenco di leggi ma è un elenco di strumenti che permette al dottore di lavoro di raggiungere i propri obiettivi i quali se sono obiettivi di sicurezza sono anche obiettivi di organizzazione sempre tornando al mio coltellino svizzero la curva di Bradley è quella curva in cui ti dice che a rovescio una buona organizzazione performante ha un'alta produttività un'altra profittabilità ma ha anche zero infortuni e un'ottima qualità quello alla fine è l'obiettivo nostro far capire al nostro CEO che lui è parte integrante di questo processo le competenze le leggi servono perché la compliance è la base di tutto non si può essere un'azienda sana se non siamo un'azienda a norma di legge e dopodiché è tutto da sviluppare nella rosica di benessere organizzativo più fatturato più produttività più salute zero infortuni e così via io direi che con queste affermazioni siamo arrivati alle 9.20 quindi abbiamo fatto i nostri soliti 40-45 minuti ampiamente e ci stiamo preparando un pochettino ad affrontare sfide nostre del futuro sfide non solo della famiglia professionale salute e sicurezza ma sfide delle aziende e quindi probabilmente continueremo sul filone della nuova formazione e questo ci porterà inevitabilmente a parlare anche di formazione per chi andrà in lavoro agile quindi questi saranno i nostri temi di questi di questi di questi venerdì insieme io con questo quindi vi saluto dandovi l'appuntamento alla settimana prossima sempre room be safe su Clubhouse ore 8 e mezza tutti i venerdì ci troviamo qui e discutiamo di nuovi modi di vivere la sicurezza insieme ciao a tutti buona settimana a presto trovate le registrazioni Francesco diglielo tu dove trovano le registrazioni troviamo le registrazioni all'interno del sito rock and safe a breve le troverete anche sul linkedin e quindi oppure su Clubhouse visto che siete scritti nella room oppure rincorrete me e Veronica e troverete delle room in cui abbiamo partecipato noi o avete partecipato voi un abbraccio fortissimo be safe be rock avanti tutti ci vediamo la prossima ciao